Il testa-cuda tra la capolista Molfetta Calcio e il Sansevero, l'incrucio pericoloso del di Liddo tra Unione Calcio Biceglie e Barletta, senza dimenticare le sfide d'alta quota Terlizzi Gallipoli e Forti Saltamura Vigortrani. E' un menù ricco, forse senza un piatto principale ma con tanti spunti, quello offerto dalla giornata numero 8 del campionato d'eccellenza pugliese. A Ricciardelli di Sansevero andrà in scena il più classico dei testa-cuda. Il Molfetta Calcio di Pino Giusto, dopo aver conquistato la vetta grazie al successo contro il Terlizzi, quarto consecutivo in campionato, si cimenterà con la necessità di punti della squadra di Prosperi, riduce da 5 K.O. di fila e pronta a scendere in campo con il coltello tra i denti. Con il coltello tra i denti e con grande necessità di far punti scenderanno in campo anche Unione Calcio Biceglie e Barletta. Al di Liddo i padroni di casa con in panchina il nuovo tecnico Dico Arato saranno chiamati a muovere una classifica fin qui deficitaria. Per farlo dovranno superare un Barletta che dopo lo 0-0 interno contro il Mesagne vorrà portare via il bottino pieno da Piceglie per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Protagoniste ai vertici e pronte a sfidarsi sono Terlizzi e Gallipoli. I rosobludi Anaclerio dopo il primo K.O. stagionale subito dal Molfetta Calcio proveranno a riscattarsi contro una squadra arcigna come il Gallipoli, capace di hissarsi al secondo posto anche grazie ai soli tre gol subiti in sette giornate. In cerca di riscatto sarà anche la Forza di Saltamura. sconfitta nel turno precedente proprio a Gallipoli è chiamata ad ospitare una Vigortrani reduce da due vittorie consecutive e vogliosa di sferrare l'attacco alla zona playoff. Da test non facili saranno attese anche due grandi come Casarano e Brindisi. I rosobludi Pasquale De Candi ospiteranno il sorprendente Otranto in una sfida tutta salentina, mentre il Brindisi sarà ospite del Mesagne in un derby che si preannuncia caldissimo. Il programma di giornata è completato dalla sfida tra Molfetta, Sportiva e Corato e da quella tra Avetrana e Vieste.